Ogni squadra che si rispetti non metterebbe a repentaglio la propria forma fisica facendo un appuntatino alla sagra della birra più grande del mondo. Ma il Monaco 1860, attualmente in seconda divisione tedesca, non è voluto mancare. Fresca del 2-0 inflitta al Greuther Fürth, la squadra è andata a festeggiare all'Octoberfest con la tipica filosofia tedesca, ovvero nessun limite, basta conoscere i propri. Possiamo avere tutta la birra che vogliamo e sappiamo quando è il caso di smettere, non è un problema, abbiamo il permesso. La pausa birra potrebbe far bene alla squadra di Markus von Hallen che ha solo 4 punti di vantaggio sulla zona retrocessione dopo 8 giornate di Bundesliga 2. Il Monaco 1860 fu una delle squadre fondatrici della Bundesliga ma vi manca da ben 10 anni per von Hallen il momento di tornarci. L'Octoberfest appartiene a Monaco e ci permetterà di essere ancora più coesi, i nuovi giocatori potranno godersi questa tradizione, ma tutti insieme pensiamo pure alla partita di venerdì, siamo concentratissimi. Venerdì sapremo se sarà valsa la pena sfiorare la sbronza a due giorni dalla trasferta di Hallen.